Spongebob vuole diventare un dio il canale questo qua o mio dio raga questo è spongebob allora praticamente qua c'è patrick Io lo sento che parla però va beh nel senso parla in inglese quindi ve lo risparmia E guardate sono tutti gli occhi appesi ma che cavolo di ambiente è questo che cosa Spongebob ovviamente Patrick è sempre stupido dice ah sembri che c'hai i brufoli sulla faccia ma che cavolo Dice patrick che cosa vuoi fare quindi oggi beh voglio mangiare il tuo collo e il collo di ogni persona che si trova davanti Beh che bravo poi vuole anche mangiare gli occhi che si trovano qua dietro e non essere intrappolato in questa prigione spongebobbesca E quindi praticamente vuole diventare un dio e ovviamente patrick è stupido perché non capisce ma patrick Oh mio dio dice che non c'è rimasto più nessuno ok spongio stai tranquillo però capisco E li ha ammazzati tutti mio dio guardate sono tutti qua Dice che non sono puri abbastanza per diventare dei e io quindi adesso voglio ucciderli tutti qua Sentite che brutto sentite dice che vuole più occhi E vedete come parla dice che è solo un costrutto morto ma che cavolo Raga oh no oh no vuole prendere gli occhi anche di patrick e ovviamente non se ne scappa ma perché non se ne scappa patrick potevi andartene Però vabbè sappiamo che patrick la stella è un pochino stupido nel senso non credo che abbia un sistema nervoso abbastanza sviluppato Ok questo è spongebob e butta il corpo purtroppo del povero patrick e si è attaccato pure gli occhi di patrick bene Questo è il canale di questo nuovo video questo praticamente è spongebob che è attaccato dagli zombie E lui è tutto felice come potete vedere vabbè adesso c'è solo un cuscino però vabbè si lava i denti Spongebob magari mettiti qualcosa non so dei pantaloni perché sai com'è un po' imbarazzante tutto ciò Adesso si prende si fa la sua bellissima colazione si è appena svegliato sapete sempre felice come fa il caro spongebob Ma non sa purtroppo quello che sta per succedere Non lo sa Ah quanto è felice che buone queste Carmel Non so come caspite si chiamavano avete visto il nome strano è già qua Dice eh beh possiamo vederci dopo gheri che praticamente sappiamo tutti che il suo Lumacone Non ho mai capito che cavolo fosse quel coso però vabbè Tra l'altro scrivetemi nei commenti se seguivate spongebob da piccoli se lo guardavate o comunque se lo guardate ora non lo so Sta succedendo qualcosa come vedete lì nella cittadella di spongebob Che non mi ricordo più come si chiama tipo Vabbè insomma scrivetemi nei commenti se vi ricordate Mi chiedo che cosa sia successo dice spongebob Mi sembra un po' bloccato però spongebob Ebbene dice è tempo di lavorare perché lui era molto felice di lavorare ai suoi bellissimi crabbi patti E sta per succedere qualcosa ho paura di quello che sta per succedere mi sto già cagando addosso Vabbè insomma lui va praticamente per la sua strada dove adesso vede delle persone E qua c'è un malintenzionato zombie ricordiamolo sempre zombie E qua potrebbe iniziare a succedere qualcosa Eccolo che cosa è successo questa è un'epidemia probabilmente che ha colpito tutta la città No infatti dovresti andare a nascondervi E lui adesso lo guarda e dice Questo signore sembra che abbia bevuto troppo Non ripetere questa cosa che ha fatto il signore Bene andrò a lavorare ora Prenditi cura di te eh signore ci dice spongebob Certo si prenderà sicuramente cura di sé E probabilmente si prenderà cura di sé mangiandoti spongebob A meno che tu non scappi abbastanza velocemente da poterlo Seminare Allora il signore qua si sveglia e dice Ed eccoci qua nel nostro bellissimo crust crab Come castita si chiama Tutti quanti che mangiano che peraltro io ho pure fame Adesso quindi mi stanno facendo venire fame Brutti maiali non mangiate così tanto perché ho fame potrei Anch'io vorrei mangiare il crabby patti buonissimo di spongebob Chi è che non lo vorrebbe mangiare io da piccolo tipo Quando avevo fame Mi ha fatto ridere che ho visto un signore un po' stupido camminare Oh eccolo qua il nostro squid di Patrick la stella stupida Sempre addormentato peraltro ma che caspita fai Lui che fa i bellissimi crabby patti Che non si rende ancora conto di quello che sta per succedere Sì questa è proprio la vita che ho sognato di avere ci dice qua Lavorare nel miglior lavoro del mondo E fare i patti Insomma il crabby patti Non ci sarebbe niente di meglio di questo Niente che possa andare storto Diciamo che non è proprio così caro spongebob Infatti Poi qua non avete sentito niente Però io ho sentito Ed era il rumore di una macchina Ecco c'è il signore Cosa stava facendo mi scusi Non voglio sapere Facciamo finta di non sapere ok Oh mio dio ragazzi Questa cosa qua è veramente brutta Ma non so nemmeno se posso farvela vedere C'è praticamente una macchina Preso sotto tutti quanti Oh mio dio Diciamo andiamo ragazzi Dobbiamo chiamare un'ambulanza no giustamente Però adesso come si risolve Perché nel senso questa cosa Sappiamo bene che non è stato un semplice incidente E dice oh mio dio Questa Allora dice anche cose brutte Che non si dovrebbero dire Quindi non ve lo dico Perché dice parolaccio insomma Quindi magari vorrei evitare di dire parolacce Sala da bar Allora Patrick ovviamente non si pone domande Lui è lì che Che guarda Tipo così no Tipo ok E spongebob Un po' Si sta iniziando a chiedere Ma è proprio vero Quello che ho detto prima Cosa sta succedendo Patrick E letteralmente da mezz'ora Che stanno andando avanti a dire Hey guarda Che non ho Non ho internet Cosa facciamo Cioè ho capito Che siete disperati Senza internet Però nel senso Ho capito Cioè nel senso Adesso Cioè cercate di fare altro No Questo sarebbe l'iphone Avete visto Oh santo cielo Dice Penso che il mio telefono sia morto Ma Anche perché è fatto di pietra Tu che di Vabbè Scusate Mi ha fatto un attimo ridere Comunque è strano Che non ci sia il segnale Da nessuna parte Ed ecco l'ambulanza Che finalmente arriva Ora forse Che peraltro Potete anche sentire Ora forse Sta per succedere qualcosa No magari Per favore Non fate vedere però Altre cose brutte Perché Qua ne abbiamo viste abbastanza Ma infatti Ma perché l'ambulanza se n'è andato Cioè l'ha detto anche il signore qua Ma perché l'ambulanza se n'è andata Io solo ora me ne rendo conto Cosa è successo Cioè non si è fermato Che cosa Cosa vuol dire questa cosa Perché nessuno Si stoppa per noi Cioè si ferma per noi E Appunto È strano E forse Perché in realtà È pieno di altre Mille emergenze E qua c'è le breaking news Ovvero tipo le news Che vanno Che dicono la tv E adesso questo Il signore dice Attenzione a tutti i cittadini Questo non è tipo uno scherzo È una cosa seria No Ripeto Questo Non è uno scherzo C'è un'epidemia Una crisi Che sta andando Che sta Insomma Che è presente C'è un virus Che si sta diffondendo Fra tutti noi Ed è un virus Ovviamente è zombie Non sappiamo come Questo sia venuto fuori Questo virus E Ho paura che però Youtube Se pronuncio quella parola Meglio non pronunciare più Quella parola Stiamo ricevendo Dei report Di persone Che stanno Avendo brutte cose Stiamo chiaramente Cercando di risolvere Il tutto Per poter Offrire Il prima possibile Un servizio di protezione Ai cittadini Chiaramente questo però È un po' difficile Qua nella cittadina Perché Moltissime persone Stanno chiedendo aiuto E Cerchiamo di farlo In tempi apprezzabili Chiaramente Controllate sempre Il canale 11 E le interruzioni Si sono Cioè Le trasmissioni Si sono interrotte E dice Dobbiamo scappare Via Questa qua Tutta quanta spaventato Ehi tranquilla Puff mama Non Non sappiamo Che cosa ci sia Lì fuori Effettivamente è vero Mai scapparsene Cioè Allora Se sei in una situazione Di sicurezza Non devi scappare Dico Sponco Poi dopo Adesso Ovviamente Non è da contestualizzare Nel mondo reale Non so Che cosa Che cosa ci potrebbe Effettivamente Essere fuori Ok Non avete sentito Le news Beh Io non vado fuori Dice la signorina Tutta quanta Inervosita Lui Probabilmente Vedrà un'occasione Per fare dei soldi Come al solito No Cioè nel senso È chiaro E dice Ehi tranquilli Tutti quanti È pieno Di cibo Qua E questo è un C'è anche un Un Bunker È meglio Che noi restiamo qua Tutti quanti Al protetto Ed effettivamente Finché non succede niente State lì Che Nel senso Va tutto bene Ok Spongebob dice E mister Krabs Ah Vabbè Praticamente Il signor Tizio Gli ha detto Di fare Il Krabby Patty Spongebob E adesso È tutta notte Che piove Certo c'è un appoggio Un po' particolare No Non è proprio Normale E Ci sono gli zombie Probabilmente fuori Bene Sarebbe giunto il momento Ragazzi Di trovare Una via d'uscita Alternativa Da questa Situazione Se non riuscite A fare niente Beh Potete uscire dal tetto Oppure poteste Scavare sottoterra E uscire da lì Solo che chiaramente È un po' difficile Quindi Potresti adottare Delle strategie Come ad esempio Cercare di attirare Gli zombie In un certo punto E poi praticamente Scamparvene Oppure Uccidere la maggior parte Gli zombie In un certo punto Dico nell'eventualità Che possano Entrare all'interno Potreste comunque Adottare diverse strategie Io ora Però chiaramente Non vorrei essere in voi Cioè in realtà Un pochino Vorrei provare a vivere Un'avventura come questa Però probabilmente Morirei Conoscendo Quindi non voglio più Viverla Dice Sono spaventato Beh giustamente qua Sono tutti quanti Spaventati Cercano anche chiaramente Di Incoraggiarsi A vicenda Chiaramente Insomma Guardate qua dietro È pieno di zombie Siete tutti quanti Circondati Voglio dire Qualche cosa Ve la farete Cioè qua Dico Qualche preoccupazione Ce l'avrete No magari Dico io E qua c'è il povero Mr. Krab Che è triste Perché guarda Il suo amore Che è un elefante O un delfino Qualche cavolo è Ed è rimasto al buio Ho un piccolo presentimento Una piccola paura Non vorrei che adesso Questa Cosa di luce Che si è andata via Voglio effettivamente Significare che Gli zombie Stanno per entrare Perché se no Sono tutti Spacciati Perché avrebbero dovuto Attuare prima Delle strategie Avrebbero dovuto Magari scapparsene Perché Allora Chiaramente non sapevano Che gli zombie Magari potevano Entrare qua Tutti quanti Diciamo Potevano circondarli Però è finito il video Allora questa è la seconda Parte del video Vorreste Che continuiamo Potremmo effettivamente Continuare a reagire Se vedo che vi piace Chiaramente E se mi commentate Che volete farlo Che volete appunto Continuare il video Ovviamente E quindi Chiaramente Faremo anche la seconda parte Se voi volete Ripeto E Ovviamente Iscrivetevi al canale Ricordatevelo Attivate la campanellina E lasciate il like Sempre le tre cose Per poter restare protetti Dai mostri cattivi Che vogliono Farci fuori Tipo Non lo so se funziona davvero Però Leggende narrano di sì Quindi Mi raccomando Sempre meglio farlo Che non farlo E ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti